4 luglio 2013, ore 13, partenza dalla Lega Navale di Trani alla volta di Dubrovnik per la nona edizione del Trofeo Challenge Antonio Pennetti. Il messaggio campeggia nei pressi della Lega Navale di Trani e non solo, che insieme all'Associazione Antonio Pennetti e all'Associazione Amici della Croazia si prepara ad organizzare l'evento valido per il ventesimo giro di Puglia di Vela d'Altura, una regata internazionale che da ormai nove edizioni si arricchisce di preziosi riconoscimenti che hanno reso la manifestazione internazionale quanto altre regate veliche pugliesi e non solo. Il trofeo è dedicato ad Antonio Pennetti, professionista barlettano scomparso prematuramente, appassionato di vela e organizzatore della prima edizione Trofeo Challenge che oltre ad una competizione sportiva è diventato un gemellaggio tra due terre divise dall'Adriatico, l'Italia e la Croazia. Culturalmente in onda su Telesveva ogni giovedì alle 15, alle 20 e 25 dedica all'evento uno speciale. Sta crescendo, sta crescendo, la nona edizione la dice tutta, siamo partiti da bambini come ogni cosa che si affronti in maniera logico-costruttiva. Siamo a un'edizione, l'anno scorso siamo riusciti ad ottenere questo grande salto organizzando una manifestazione interadriatica che parte da Trani ed arriva a Dubrovnik, c'è stata la prima con tutte le difficoltà di una prima. Quest'anno la riproponiamo perché ritengo che io all'inizio, alle prime manifestazioni, ogni intervista che facevo menzionavo sempre un andare più lontano con questa manifestazione. Penso che dopo l'ottava edizione raggiunta Dubrovnik, che era il sogno che avevo io, perché ha anche una logica questo. mio padre adorava la Croazia, adorava la Jugoslavia, la famosa Jugoslavia, prima della purtroppo famigerata guerra dei Balcani. Ho voluto omaggiare lui e ricordarlo, oltre che nella sua pula naturale, che è il mare e la vela, nella sua meta naturale.